... Bene, si è svegliato. Che ci faccio qui? Si dà il caso che sia svenuto dal dolore. Ma io non le ho dato il permesso di... Signor Loggio, sono un dottore. La dovevo visitare per avere la conferma di quello che sospettavo fosse la causa dei suoi disturbi. E? Ritengo che lei abbia un calcolo al rene. Questi attacchi acuti e improvvisi sono causati da un sassolino che si sposta lungo l'uretra dal rene alla vescica, provocando le fitte. Ah, un calcolo al rene. Molto piccolo, ma abbastanza da provocare dei disturbi molto forti. Posso darle dell'infuso di acero per calmare il dolore e una soluzione di carbonato di potassio e sodio per favorire così il passaggio urinario. Sarà sufficiente? Questo e molta acqua dovrebbe aiutare a smuovere il sassolino e una volta giunto alla vescica lo espellerà facilmente. A meno che la vescica non sia bloccata. Bloccata? Dal sassolino. E se dovesse accadere potrebbe rivelarsi necessario un intervento chirurgico. Ma che vuol fare? Me ne vado. Non le ho ancora dato l'infuso e il carbonato di potassio? Starò bene. Mi dice come farà con i dolori? Me la caverò. Mi dice come farà con i dolori?